La necessità di un cambiamento è data dalla società in cui viviamo. Come dice Michael Fulan, qualsiasi miglioramento presuppone un cambiamento, ma non qualsiasi cambiamento presuppone un miglioramento. Bisogna andare a cercare questo cambiamento che ci sembra il migliore, bisogna andare a vedere quali sono le forze che ci fanno cambiare nella nostra società. Un cambiamento richiede volerlo, desiderare questo cambiamento. Ci vuole anche una ragione del perché e perché cosa. Quali sono le implicazioni, qual è il mio impegno in questa società per esigermi a me stesso il fatto di poter cambiare. Poter cambiare di mentalità, poter cambiare il mio modo di fare, poter cambiare, aprirmi alla flessibilità e aprirmi a quello che è nuovo, a quello che è diverso, la volontà di un cambiamento. Bisogna voler cambiare e quando i gruppi e le istituzioni non vogliono cambiare, bisogna generare la necessità del cambiamento. Diciamo che tutti vogliono cambiare, ma ciò che è difficile è arrivare alle azioni che portino a un cambiamento o che creino la necessità del cambio. Per poter cambiare bisogna sapere anche, bisogna conoscere cosa vogliamo applicare, cosa vogliamo fare. Non possiamo scegliere qualsiasi cosa che fanno gli altri. Io ho bisogno di una formazione, ho bisogno di una conoscenza, ma quello che non posso fare è dedicare tempo, anni, ad andare alla ricerca delle conoscenze, senza applicare, senza sapere come poter realizzarle e così migliorare il processo verso il cambiamento. Quindi abbiamo bisogno di un modello chiaro che serva ad orientare il cambiamento e dare una formazione affinché questo cambiamento si possa applicare. Il cambiamento richiede anche di poterlo portare a termine. Ci vuole un contesto, delle circostanze, un momento propizio per favorire il cambiamento. Daniel Pink dice che non si trova mai il momento del cambio, che bisogna generare questo contesto, queste circostanze per poter creare il cambiamento. Africa della Crustome dice che ci sono tre parole che sono necessarie per qualsiasi cambiamento. La motivazione, volerlo, la formazione, sapere, andare a cercare il modello che io voglio applicare e la possibilità, il contesto per realizzarlo. Affinché ci sia questa motivazione e formazione e questa possibilità di cambiamento, le figlie missionarie della Sacra Famiglia di Nazareth abbiamo cercato un ambito referenziale che ha fatto sì che il progetto sia cresciuto e così tutte abbiamo potuto partecipare, abbiamo co-creato. Siamo andati avanti con il progetto educativo in quella formazione in azione, in quel learning by do, sperimentando, cioè, molti concetti partendo dalle azioni svolte. Nell'anno 2000 un professore olandese ha detto durante un congresso che per portare all'innovazione ci vorrebbero quattro trasformazioni. Queste trasformazioni sono state raccolte in un capitolo del libro della nuova educazione di Ferran Ruiz. Partendo da qua, Nazareth Global Education ha creato questo modello educativo, un ambito referenziale per crescere, un ambito referenziale per applicare questo cambiamento, affinché questo cambiamento sia una realtà. Devo dire che quell'ambito referenziale ci ha portato a un modello educativo che sia sostenibile, questo è molto importante. Non si tratta di fare delle cose degli anni e poi dimenticarci di tutto. La crescita deve essere sostenibile. Si deve, come dico, sostenere. Il cambiamento deve essere sistemico. La visione deve essere di tutto il centro, tutta l'istituzione. Un cambiamento che va dal più piccolo fino al più grande. Un cambiamento che possa garantire un modello educativo e un progetto educativo che sa perché e per che cosa è che non si esaurisce in sé. La dinamica del miglioramento continuo è un po' stancante, direi, e a volte sembra un po' ecco, che ti esaurisce perché quello che noi vogliamo è rispondere a queste forze di cambiamento che arrivano e quello che vogliamo è generare un miglioramento continuo in tutto il processo. Non solo in una scuola, ma nell'istituzione, in tutte le scuole. Alcuni penseranno che abbiamo poche scuole. Ma no, io credo che in qualsiasi istituzione è possibile. Bisogna sapere qual è il modello chiaro, arricchirlo, espanderlo e che il modello si possa co-creare. Un modello che risponda alle forze di cambiamento e non un modello che rimane indietro. Un modello che porta il futuro nel presente. In questo progetto educativo, qui lo abbiamo sintetizzato in questo diagramma. Le parole che vedremo devono essere uguali in tutte le scuole e istituzioni. Stiamo parlando di applicazione di una serie di pratiche educative, ma soprattutto che sia applicato in un modo rigoroso. Perché dietro c'è una ricerca, c'è anche un ambito teorico, c'è un'azione che ci permette di fare delle ricerche e che ci permette di generare una concettualizzazione a volte nuova sulle pratiche che stiamo portando avanti. Bene, quando parliamo allora di questo progetto educativo, la persona è al centro. Il Papa ce lo chiede nel compromesso del patto educativo globale. Il fatto è che questa persona è al centro sembra facile, ma quando tutto gira intorno a questa persona non è così facile organizzare la scuola affinché la scuola, lo studente, il bambino sia al centro. bisogna ascoltare la voce di questo bambino. Speriamo, desideriamo che questa persona con tutte le opportunità che ha avuto durante l'apprendimento possa contribuire a migliorare il mondo. Vogliamo che tutto quello che noi diamo a questo bambino, bambina, possa essere assimilato da lui, da lei che gli serva nella sua vita per cambiare e per migliorare tutto quello che è il suo contesto, per migliorare il mondo, ma non quando esce dalla scuola, ma nella scuola stessa. Delle persone che hanno grandi valori etici, persone che sappiano andare verso l'eccellenza, persone che si impegnino nelle azioni di miglioramento già da molto piccole, affinché la persona sia etica, la persona sia eccellente, impegnata e per questo deve essere affiancata la persona, affiancata per poter sviluppare un progetto di vita vocazionale che atterra in un piano personale. Tutto questo lo facciamo attraverso una persona che possiamo chiamare coach, una persona che accompagna, una persona che non solo è accanto allo studente per un successo scolastico, ma anche perché questa persona dia il meglio di sé in tutti gli ambiti della vita. Un coach, un tutore, una guida, una persona che deve anche imparare a dialogare, deve imparare a mettersi al posto dello studente. Questo coach è molto importante che la scuola lo prepari. Abbiamo anche la famiglia. La famiglia è la prima educatrice che fa parte del progetto educativo, contribuisce, modifica e direi che fa come un tuning, una personalizzazione del progetto educativo. e una parte di questo accompagnamento anche è dato dal gruppo cooperativo di base, il gruppo dei pari che aiuta a portare avanti quello che questo compagno studente vuole. Questi gruppi di cooperazione di base aiutano alla perseveranza e l'aiuto è incondizionale. Stabilisce una rete orizzontale di affiancamento. Insieme a questo accompagnamento abbiamo la formazione giornaliera con una visione di fede che può analizzare ciò che succede nel mondo con criteri evangelici. Fede e cultura cioè vivere la vita in profondità secondo gli occhi della fede e sentirsi sempre accompagnati da Gesù Cristo. Questo è proprio il nucleo del nostro progetto educativo. Questo nucleo viene accompagnato, abbracciato da quattro grandi trasformazioni. La prima è il curriculum, la metodologia e la valutazione. Quando questi cambiamenti si svolgono questi tre nel ruolo del professore e dell'alunno c'è un cambiamento. Il ruolo è diverso e questo porta alla seconda trasformazione. La terza trasformazione è l'organizzazione del centro. Forse è quella più difficile perché l'organizzazione del centro ha a che vedere con le persone e le persone hanno delle particolarità per quanto riguarda gli orari per esempio per poter generare ciò che c'è di meglio per questo studente. E infine la quarta trasformazione sono gli spazi di apprendimento sia digitali culturali o fisici spazi che aiutano lo studente lui così si sentirà a suo agio emozionalmente si troverà in un contesto di centro spazi che aiuteranno anche le relazioni degli uni con gli altri spazi che ci aiuteranno a far che la scuola l'istituzione possa avere un modo di fare familiare un modo dove i vincoli sono di affetto tenerezza amore e crescita andiamo a vedere adesso nei prossimi video in cosa consistono queste trasformazioni vorrei adesso lanciare un video e vedrete questo progetto educativo a livello globale grazie ciao sono l'apprendimento emergente personalizzazione plus di Nazareth Global Education sono un progetto educativo per la formazione integrale della persona e con me lo studente diventa protagonista del suo apprendimento cerco persone impegnate che vogliono migliorare il mondo con valori etici e in grado di imparare lungo la loro vita la mia passione è accompagnare gli studenti nel loro progetto di vita personale e nella creazione del loro piano personale di apprendimento ho i migliori alleati un tutore coach che accompagna lo studente e la famiglia come prima educatrice faccio in modo che lo studente partecipi ad un gruppo cooperativo di base che lo aiuta a crescere e a consolidare l'apprendimento ogni giorno definisco il momento della formazione mattutina e dell'accoglienza per avere promuovere i criteri evangelici nei bambini e soprattutto permetto che lo studente sia il leader del suo percorso di apprendimento ti presento l'ecosistema di fiducia che fa sorgere questa educazione integrale con le quattro trasformazioni la prima trasformazione è il curriculum metodologia e valutazione un curriculum modificato allargato perché la società chiede nuove conoscenze nuove capacità forme di capire il mondo e per questo il curriculum è multidisciplinare un curriculum che non è solo conoscenza ma acquisizione di competenze che offre opzioni per una personalizzazione reale che possa rispondere alle necessità di ogni studente un curriculum che fa sì che tutti possano arrivare alla competenza globale poter capire il mondo interagire migliorarlo trasformare il curriculum richiede anche trasformare le metodologie affinché sia sperimentale ci basiamo su dei progetti che si assemblano e si lanciano per imparare gli uni dagli altri abbiamo scelto l'apprendimento cooperativo per aiutarli a prendere decisione valutare con precisione abbiamo bisogno per questo di un pensamento critico e creativo integreremo la tecnologia perché permette la personalizzazione permette anche la ricerca da parte degli studenti e rende effettivo il lavoro del maestro sviluppiamo la cultura maker creando invitando a pensare a facendo con dei prototipi dobbiamo anche trasformare la valutazione autentica per imparare che sia presente in tutto il processo e che sia anche autovalutazione così lo studente conosce i suoi punti forti e deboli valutando le competenze degli studenti per andare avanti nel processo di apprendimento con le capacità e le competenze curriculum metodologia valutazione tutto per trasformare l'apprendimento emergente di Nazareth Global Education la seconda trasformazione riguarda il ruolo dell'insegnante è fondamentale un insegnante che non solo è esperto nelle materie ma sviluppa le competenze come tutor guida in tutte le dimensioni dello studente è educatore in ogni momento un professore che è membro di un team teaching esperto nel design delle esperienze di apprendimento combinato per permettere autonomia allo studente con la piattaforma digitale un insegnante che dà un apprendimento autodiretto con il rispetto del ritmo dello studente un professore Nazareth Global facilita l'apprendimento dello studente crea dei video video che lo studente può vedere ogni volta che ne ha bisogno rispettando il ritmo di chi impara così nasce uno studente che ha un ruolo attivo nel suo proprio piano personale ha bisogno di una conoscenza della gestione per una ricchezza emotiva uno studente che crea il suo portfoglio per riflettere su l'apprendimento che lo porta a prendere decisioni con le capacità mentali lo studente più autonomo e anche un apprendimento tecnologico uno studente che insieme al professore è in grado di creare il proprio apprendimento così è Nazareth Global Education ci avevi pensato la terza trasformazione è l'organizzazione bisognerà cambiare l'orario i gruppi non ci sarà più un gruppo un professore un aula e un'ora perché l'apprendimento sperimentale ha bisogno di tempi spazi diversi si crea un team teaching e un'interdisciplinarità ci organizziamo per creare delle comunità di apprendimento tutti impariamo da tutti e possiamo mettere insieme il tempo sincrono e assincrono Nazareth Global permette che l'apprendimento sia sempre più autonomo la quarta trasformazione sono gli spazi fisici digitali e culturali spazi che chiamiamo fuochi di campo che permettono di parlare a tutto il gruppo spazio fonte dove si può consultare e condividere in piccoli gruppi e spazi caverna con le pareti che parlano che rendono visibile l'apprendimento vogliamo muoverci in un contesto agile e multimodello per l'ibiquità la comunità di apprendimento spazi che comprendono le comunità di apprendimento con spazi esterni gli spazi digitali tengono conto della presenza docente sociale nel design delle esperienze di ambiente virtuale con i paesaggi di apprendimento che rendono possibile che studente e professore possano interagire ognuno ha i propri strumenti digitali creando l'edificio digitale per svolgere una cittadinanza digitale responsabile essere comunità professioniste di apprendimento dove viene valutato il capitale umano sociale di ogni insegnante portando a un ecosistema di fiducia fra professore studente famiglia dove ci sono valori e virtù dove la famiglia la scuola e gli studenti siano il tripod learning di ogni giovane una leadership in rete che ci rende responsabile dell'educazione nel mondo creando spazi sicuri per tutte le persone verso un'ecologia integrale includendo la dimensione umana e sociale tutto ciò è apprendimento emergente personalizzazione plus un apprendimento che creiamo con te nazare global education esperti in innovazione sistemica e sostenibile e sostenibile e sostenibile